...la Nicola Romagnani e lei è dello stesso stile del lago, la quadra, è il stile del lago. Poi vedremo un po' la differenza tra lo stile della quadra, il stile deliziale, e lo stile della villa. Vi chiedo di tenere a mente questo scorcio, perché vedremo ancora questa casa, quando dopo la giustiziazione scadiremo, scenderemo dall'altra parte del barco, vedremo la casa dall'altro punto di vista e sarà completamente diversa. Vi chiedo di ricordarvi questo.